Una visita per sottolineare la grande importanza delle persone anziane e dei nonni contro la cultura dello scarto e il valore e la dignità della vita in ogni situazione. A sorpresa venerdì pomeriggio verso le 16 Papa Francesco accompagnato dall'arcivescovo Rino Fisichella, incaricato dell'organizzazione del Giubileo della Misericordia, ha raggiunto per una visita privata la casa di riposo Bruno Buozzi in via di Torre Spaccata a Roma dove sono ricoverati 33 anziani. Grande sorpresa e gioia tra gli ospiti della casa in quanto la visita non era stata annunciata. Il Papa ha incontrato gli ospiti uno ad uno soffermandosi a parlare con ognuno. Prima di ritornare in Vaticano ha visitato anche Casa Iride dove abitano sei malati in stato vegetativo. Casa Iride non è organizzata come un ospedale ma come una casa famiglia dove i degenti possono essere assistiti continuamente dai familiari. Alle 17.15 il Papa ha preso la via del ritorno verso il Vaticano. Queste visite fanno parte dell'iniziativa I Venerdì della Misericordia in cui il Papa anche nei prossimi mesi si riserva di compiere un gesto esemplare di misericordia.